Il nostro obiettivo oggi è la scuola trilingue per tutti. Abbiamo fatto molto in questa legislatura, abbiamo potenziato il plurilinguismo già dalle scuole dell'infanzia, abbiamo allargato i potenziamenti a tutte le scuole elementari, abbiamo lavorato sugli scambi, sulle certificazioni linguistiche, sulle certificazioni internazionali. Abbiamo raggiunto degli ottimi obiettivi e proprio per questo adesso siamo pronti a fare il salto di qualità. La scuola trilingue per tutti significa più opportunità per i nostri ragazzi, non solo di trovare un posto di lavoro, ma anche a sentirsi veramente a casa in questa terra.